La Befana! Chiamiamola forte, vai! Nonostante brutti annunci degli scorsi giorni, tornerà comunque la Befana dei Vigili del Fuoco a volare nel cielo aquilano. Così, dopo le difficoltà incontrate dai Vigili del Fuoco a causa dell'impegno nell'emergenza terremoto e per la mancanza di alcuni fondi, l'Associazione Nuova Acropoli annuncia che la Befana 115 in Piazza Duomo si farà. Come di consueto, dice in una nota Claudia Cicerone, l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco dell'Aquila, affiancata dall'Associazione Nuova Acropoli, Anima Mersa e Mamme per l'Aquila, sarà presente il 6 gennaio in Piazza Duomo per la dodicesima edizione della manifestazione della Befana volante. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 in Piazza Duomo, inizieranno giochi e magie per tutti i bambini, con i volontari animatori, sorrisi e amici di Nuova Acropoli e di Radio L'Aquila 1, media partner dell'evento. Alle 18 poi, ci sarà il tradizionale volo della vecchina dal campanile di Piazza Duomo, che porterà calzette piene di dolciumi a tutti i bambini che si saranno radunati in piazza con nonni e genitori. Grazie